E' nelle cantine delle aziende che si conserva un tesoro. Sono le bottiglie che custodiscono le annate storiche di Brunello di Montalcino, che fa della longevità il suo tratto più rappresentativo ad incarnare la memoria storica di questo nettare e del territorio in cui esso nasce. Un tutt'uno imprescindibile che fa del Brunello il simbolo della città e Montalcino la culla di questo prodotto, unico ed irripetibile. E, se entrare in una cantina dove si conservano annate storiche, è senza dubbio un'emozione? Pensate che onore sarà per tutti coloro che passeranno di fronte allo stand di Coldorcia in questi giorni di Vinitaly poter degustare alcune tra le annate storiche della cantina, che annovera un patrimonio di ben 50.000 bottiglie di vecchie annate. Brunello è diventato famoso quando in giro per il mondo hanno stappato dalle vecchie bottiglie e si sono resi conto dell'eccezionalità del San Giovese a Montalcino, di come più passa il tempo, più migliora in bottiglia, più regala emozioni intense. Perciò stapparle, farle assaggiare, assaggiare è quasi un termine non sufficiente, farle, come dice il mio amico Isao da Giappone, farle godere ai consumatori e ai giornalisti e riaffermare l'essenza del Brunello. Vecchie annate in degustazione qui a Vinitaly e poi in previsione una degustazione particolare? Abbiamo Vinitaly, abbiamo portato delle vecchie annate, abbiamo portato anche quella che sarà la stella di questa degustazione il 16 aprile a Roma, l'hotel Hilton, la 1965, perciò l'annata che compie 50 anni, l'annata che va a riaffermare il ruolo del Brunello tra i vini italiani, cioè il grande vino da invecchiamento.